Oggi vi proponiamo degli outfit da giorno e da sera e il must have di questo inverno sono le ruches. Quest'anno le ruches le ritroviamo un po' dappertutto, nella maglieria, negli abitini, in maglia invernali con le ruches, bluse, borse addirittura e anche accessori, tra cui le collane. Il primo outfit che vi proponiamo è una jumpsuit 7 ottavi con bretelle con le ruches, abbinata con una felpa stile Chiara Ferragni con gli occhietti, che sono molto di tendenza. Questa jumpsuit fantasia pedipool con dettagli con le ruches la possiamo abbinare tranquillamente con un giubinetto di pelle, molto simpatico, il nostro adorato giubinetto di pelle. Questo è un giubinetto amato da tutte le donne, che ormai lo possiamo sfruttare un po' tutto l'inverno mettendoci sopra uno smanicato di pelliccia. Le ruches li troviamo un po' in tutti i dettagli in moda. Ecco la collana, effetto ruches. A completare il look, vi proponiamo la borsa questa qui con ruches in pelle. Il secondo outfit che vi proponiamo è una gonna con balze in ecopelle, abbinata con un maioncino con dettagli. Questo look lo possiamo abbinare con un biker molto sportivo da giorno e magari mettere un calzino che esce da fuori, che richiama i colori del maioncino. Seconda proposta la completiamo con questo cappottino, taglio over, molto chic, che in effetti è un passepartout sia da giorno che da sera. Vi proponiamo questo zainetto, molto di tendenza e anche molto comodo perché può contenere tutto l'indispensabile per noi donne. Mantenendo sempre il tema delle ruches, di sera vi proponiamo una tuta nera, scolla a barca, sempre molto di tendenza e dove giù termina con una zampa molto larga che vuole richiamare l'effetto ruches. Adesso giochiamo un po' con i colori e su questa tuta abbiniamo questo chiodo, rosa shocking, molto barbie style. E se sentiamo freddo ci abbiniamo questo maxi sciarpone lurex, altro must have di quest'inverno. Ciao! 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 Ciao!